Buongiorno e benvenuti a Terra Madre Benessere, lo spazio online che il paese delle donne dedica ai temi della tavola, della salute e dell'agricoltura. Sono Eva Panitteri, sommelier del vino e dell'olio e vi condurrò di volta in volta in un breve viaggio alla scoperta di nuovi argomenti. Per accrescere la cultura del vino e il consumo responsabile oggi parliamo di vendemmia. Con il 2023, che in Italia è stato il terzo anno più caldo dal 1800, stiamo quasi vivendo una tropicalizzazione del nostro clima con sfasamenti di temperature e alternanze scomposte di periodi troppo secchi e periodi troppo piovosi che stanno producendo danni all'agricoltura e al vino. Per la vedemmia 2023, infatti, le previsioni parlano di un calo produttivo in ettoletri del 12% a livello nazionale, mentre le vigne hanno registrato importanti perdite in tutta la penisola. Se lo scorso anno, infatti, era stata la siccità a dare problemi, quest'anno ci hanno pensato le abbondanti piogge primaverili, creando condizioni favorevoli all'insorgere di malattie della vite, che al centro e al sud hanno fatto registrare perdite nei raccolti dal 20 al 30%. Protagonista dell'annata, la peronospora, una malattia fungina causata proprio dal ristagno di umidità. Nonostante questo, però, ci si attende una produzione di vini di buona qualità, con punte di eccellenza. In termini di effetto sul vino, i cambiamenti climatici hanno costretto coltivatori e coltivatrici ad anticipare la vendemmia, che in alcune zone quest'anno è partita già nei primi giorni di agosto. A causa dei cambiamenti climatici, oggi, si ottengono uve meno acide rispetto al passato, con una maggiore concentrazione degli zuccheri, che porta anche ad un aumento della gradazione dei vini. Per certi versi un doppio problema, visto che gli estimatori più giovani, come dicono alcune ricerche, oggi cercano vini più leggeri e di bassa gradazione alcolica. Le aziende del vino, inoltre, non sono esattamente luoghi per donne. Nel settore, infatti, le donne dirigono solo il 28% delle cantine con vigneto, il 12% delle cantine industriali, il 24% delle imprese che commercializzano vino al dettaglio e il 12,5% di quelle all'ingrosso. E soprattutto, in cantina decidono poco e sono meno del 10% nei CDA delle grandi aziende e delle associazioni di settore. Lavorano soprattutto nel marketing, nei rapporti con l'estero e nei segmenti del turismo. E a questo proposito, la vendemmia 2023 in Italia mette in moto un esercito che conta 1,5 milioni di persone impegnate direttamente nei campi e nelle cantine, ma anche nelle attività dell'enoturismo. La vendemmia turistica, infatti, da quest'anno è regolamentata in tutta Italia, ma si deve prenotare. Si tratta di un'esperienza che mette insieme svago e apprendimento, dove i turisti sono accompagnati da un tutor che ne spiega metodi e regole. I turisti, divisi in piccoli gruppi e dotati dai vignaioli di forbici e cestini, devono indossare un abbigliamento adeguato, scarpe chiuse e non sandali, guanti da giardinaggio e un badge che li identifichi. Per intenderci, in vigna non si va con questo abbigliamento. Benché l'esperienza della vendemmia sia nei sogni di noi tutti, in realtà è un lavoro specializzato ed estremamente professionale, che viene effettuato secondo un calendario determinato in base all'assaggio e alle analisi delle uve, ma anche modificato in base alle condizioni climatiche. A chi volesse approfondire meglio il tema della vendemmia, consiglio un paio di classici. Il libro Vino al vino di Mario Soldati e il film Ritorno in Borgogna. Emozionante, didattico, divertente e perfetto per una serata in famiglia, deve essere visto tenendo accanto almeno un goccino di vino, perché come per il film Choccolà, guardarlo senza che venga voglia di un assaggio di vino è impossibile. Anche per questo assaggio è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana per curiosare ancora insieme nelle tecniche e nelle storie del vino, perché il nostro viaggio finisce qui. Cin cin.